Questa donna che aveva un canale youtube con oltre 2 milioni di iscritti in cui mostrava la sua famiglia e come educava i suoi figli è appena stata arrestata perché trattava i suoi figli in modo orribile nei video fino al punto che uno di loro è addirittura scappato di casa dalla finestra per chiedere aiuto ai vicini e si trova in evidente stato di malnutrizione e con dei segni come se l'avessero legato con la corda Sembra la scena di un film dell'orrore ma è tutto vero e nell'ultimo periodo sempre più family channel, canali di questo tipo con dei genitori che mostrano le loro famiglie e i loro figli stanno venendo smascherati per essere dei genitori orribili che sfruttano i loro figli per le views e in alcuni casi, come questo che vedremo, addirittura li maltrattano e personalmente sono abbastanza fiero di dire che anche in tempi non sospetti questo tipo di canali non mi è mai piaciuto per niente mi ha sempre fatto una brutta impressione questo non vuol dire che tutti i canali di genitori che mostrano le loro famiglie siano dei pazzi che maltrattano i figli chiaramente no, ma per molti di loro, soprattutto quando cominciano a fare tanti views con i loro figli diventano praticamente una macchina da soldi e se i genitori non hanno diciamo dei valori morali molto alti allora metterci a sfruttare la cosa il più possibile per il massimo guadagno è un attimo anche se questo vuol dire maltrattare a tutti gli effetti i tuoi figli e ne abbiamo visti anche su questo canale un paio di casi di genitori che si comportano in questo modo ma la madre che vedremo oggi è senza ombre di dubbio la peggiore di tutte quelle che abbia mai visto qui su youtube e in generale sui social le cose che faceva i suoi figli sono disgustose e non ci sono altri modi per descriverle quindi oggi andremo a scoprire la verità e cosa succedeva in questo family channel con oltre 2 milioni di iscritti e ciò che ha portato all'arresto di questa donna ma prima se non siete ancora iscritti è il momento giusto di farlo perché non è possibile che questi che maltrattavano i loro figli avevano 2 milioni di iscritti più di me è inaccettabile questa cosa la donna in questione si chiama Ruby Frankie e ha ben 6 figli il suo canale youtube si chiamava 8passenger e lo gestiva insieme al marito che adesso è stato chiuso aveva 2 milioni e 280 mila follower e all'apparenza era il classico canale di vlog di famiglia lei però è stata arrestata al momento per questi presunti abusi su minori e se venisse condannata rischierebbe parecchi per tutte le cose che stanno saltando fuori in questi giorni che avrebbe fatta i suoi figli infatti si parla di accuse veramente gravi le accuse sono di aver causato o permesso gravi lesioni fisiche alle vittime in 3 modi diversi una combinazione di molteplici lesioni fisiche o tortura fame o malnutrizione che mette a pentaglio la vita e causare gravi danni emotivi la cosa divertente anche se in realtà non è che sia molto divertente ma diciamo che è il colmo di questa storia è che questa donna oltre a mostrare la sua famiglia dava anche dei consigli agli altri genitori per educare i loro figli come faceva lei già il fatto che ci sia una madre che tratti così i suoi figli è vergognoso spero solo che nessun genitore al mondo abbia veramente preso sul serio i consigli di questa donna ma il fatto che ci siano tutti questi canali di famiglie che mostrano la loro vita mentre fanno cose orribili ai loro figli per le views ha anche un lato positivo perché questi genitori ovviamente si filmano mentre dicono e fanno determinate cose e poi lo pubblicano e se questo potrebbe essere sicuramente un trauma in più per i bambini ha anche un enorme vantaggio e cioè che le prove di questi crimini ce le forniscono direttamente i genitori con tanto di video in 4k editati e tutto quanto cosa che in altri casi di abusi in famiglia purtroppo non ci sono e viene anche più difficile fornire delle prove quasi tutti i video originali ora non sono più disponibili online perché il canale non c'è più ma ci sono diversi video ricaricati e questi sono alcuni esempi delle cose che questa donna diceva nei suoi video per esempio una delle punizioni più frequenti era non dare da mangiare ai suoi figli e questo dello stare senza cibo è una punizione che a quanto pare le piaceva molto infatti c'è anche un altro video in cui racconta di una delle sue figlie e manca la parte iniziale ma penso che dicesse tipo che la bambina si era dimenticata di prendere il pranzo per portarlo a scuola o qualcosa di questo tipo e invece di aiutarla o magari portarle lei il pranzo se può farlo la sua reazione è dire che la conseguenza di questa sua dimenticanza è che dovrà soffrire la fame e per questo spera che nessuno le dia da mangiare cioè ma questa donna gli vuole un minimo di bene ai suoi figli oppure non gliene frega letteralmente nulla perché da come parla sembra veramente la seconda e tra l'altro queste sono le cose che lei diceva in pubblico che lei si sentiva a suo agio nel condividere con tutto il mondo quindi provate a immaginare le cose che invece faceva solamente in privato dietro le telecamere e di video in cui dice di togliere il cibo ai suoi figli ce ne sono veramente tanti ce n'è anche un altro dove si vede uno dei bambini che stava giocando e lei vuole farlo smettere e quindi gli dice che se non la smette gli toglierà il privilegio di mangiare beh molti di noi magari da bambini quando ci comportavamo male rischiavamo di non poter giocare alla playstation o di non uscire a giocare i figli di questa donna invece rischiavano di non mangiare io questo canale non lo conoscevo non l'avevo mai sentito dominare prima d'ora ma più mi sono informato su questa vicenda e più ho visto video di questo tipo più mi viene da chiedermi come mai nessuno sia intervenuto prima per fermare questa donna o che qualcuno magari pensava che fosse uno scherzo ma uno scherzo lo fai una volta o due poi basta anche perché questa addirittura si permetteva di dare consigli agli altri genitori quindi mi stupisce che sia dovuto passare tutto questo tempo e che sia stata necessaria la fuga di un bambino dalla finestra per intervenire anche perché le punizioni di questa madre non si limitavano solamente al cibo sarebbe stata troppo umana infatti se si comportavano male rischiavano addirittura di perdere il letto dove dormivano e avete capito bene qui praticamente c'è una storia di uno dei figli più grandi che ha fatto uno scherzo a un fratello più piccolo e per sette mesi questa donna ha deciso di punirlo mandandola a dormire in soggiorno senza un letto e c'è anche un video in cui parlano di questa storia il sorriso di questa tizia sapendo tutte le cose che succedevano in quella casa vi posso dire che è abbastanza inquietante si sono stati in un bambino I've been sleeping on a beanbag since October, and they gave my room back like two weeks ago. I'll give you the reason why I lost my bedroom. I woke Russell up at two in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack, and he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in his suitcase, and then he walked out the door, and I'm like, Russell, and he's like, what? And he's all happy, has his sunglasses on. But what you guys didn't know was Chad didn't get any room. He didn't get anything, he was sleeping on the floor in the family room. Uno scherzo fatto a un fratello minore che gli costa la stanza e un letto per sette mesi. Un conto è voler educare i tuoi figli? Vanno bene anche delle punizioni in alcuni casi, ma la punizione non dovrebbe essere togliere ai tuoi figli dei beni necessari per vivere, come il cibo o un posto o un letto dove dormire. Questa diventa una vera e propria tortura, che poi, tra l'altro, non serve nemmeno a nulla. Infatti, il ragazzo, mentre spiega il motivo per il quale ha perso la camera, dice che non è sicuro se sia veramente quello il motivo. E infatti, lei più avanti lo corregge. Quindi, queste punizioni non servono a niente se nemmeno gli è chiaro il motivo per il quale vengono puniti. Che poi, un'altra cosa che mi chiedo, e dov'era il padre mentre stava succedendo tutto questo, è perché non è mai intervenuto. Questo perché, dopo l'arresto, alcuni dei figli, in stato di malnutrizione, sono stati portati in ospedale. Gli altri, affidati dei servizi di infanzia, e sono state arrestate la madre e una sua socia, che vedremo tra un attimo anche lei in un video. In questi video, però, il padre non si vede mai. A quanto pare, erano separati da diversi mesi, almeno da quanto si legge online, dunque, è molto probabile che lui non fosse presente in quei momenti. Ma anche solo vedendo i video online, non ci vuole molto a capire che c'è qualche problema. Ho cercato su YouTube e ci sono letteralmente compilation di più di 30 minuti di momenti in cui la madre si comporta male con i figli. Per il momento, le dichiarazioni del padre che ho trovato online, sono che si dice scioccato per questo arresto, e dice che la collega di sua moglie, o ex moglie, l'avrebbe manipolato. Non saprei, spero solo che non era complice anche lui, se già per quei ragazzi avere una madre che si comporta così deve essere traumatico, avere entrambi i genitori così deve essere mille volte peggio. Ma se stavate pensando che le punizioni dove si stava senza cibo, e senza un posto per dormire fossero tutto, beh, vi stavate sbagliando. Infatti, anche la privacy all'interno di quella casa è un concetto completamente sconosciuto. Più vedo video di questa famiglia e più mi sembrano a casa delle trotture. Se questa donna venisse dichiarata colpevole di tutti i reati di cui è accusata e doveste finire in carcere, penso che la sua esperienza sarebbe piuttosto simile a quello che faceva passare ai suoi figli. O da un certo punto di vista potrebbe essere anche meglio, perché di solito lì da mangiare te lo danno. E come vi dicevo, ci sono anche dei video in cui lei parla dell'educazione da dare ai figli e lo fa insieme a quest'altra donna che, a quanto pare, sarebbe una sua collega. E anche lei è accusata di alcuni reati. E c'è un video, per esempio, in cui i loro due rispondono a delle critiche che hanno ricevuto su come educano i loro figli, che sono crudeli e che per questi comportamenti i loro figli non gli vorranno bene in futuro. E loro rispondono dicendo che se i loro figli non gli vorranno bene, incondizionatamente allora non gli interessa, ed è quello il problema se i loro figli gli vogliono bene solo se fanno certe cose. Ed è un ragionamento che veramente non ha senso. Un conto è se stesse parlando come un genitore normale, con delle punizioni normali, che non lo so, gli tolgono la Playstation perché non studiano o cose di questo tipo. Ma è completamente diverso se ti rifiuti di farli mangiare, di dormire, addirittura arrivano al punto da scappare dalla finestra per chiedere aiuto a dei vicini, in stato di malnutrizione e con dei segni come se li avesse legati. Questa non è una cosa normale, e spero che se ne renderà conto. Se i suoi figli non vorranno avere a che fare con lei, è solo per colpa di questi comportamenti disumani. Comunque che dire, spero che in questo caso venga fatta giustizia, e che chi è veramente colpevole paghi per quello che ha fatto, ma soprattutto auguro il meglio a questi ragazzi che sicuramente non staranno passando un bel periodo. Non penso che serva aggiungere altro su questa storia, quindi fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Ringrazio come sempre gli abbonati al canale per il vostro supporto che aiuta veramente tanto. E detto questo, direi che ci becchiamo alla prossima. Ringrazio come sempre gli abbonati al canale per il vostro supporto che aiuta.